Ciao ragazzi e ciao ragazze, l'estate è praticamente finita, siamo già a settembre, com'è possibile che sia passato tutto così velocemente? Per fortuna ho un sacco di novità che non vedo l'ora di mostrarvi, e un sacco di progetti nuovi che vi mostrerò prestissimi. Partiamo dalla prima novità, la location. Come vedete non siamo più all'aperto, siamo all'interno, sono nella mia cameretta di sempre, e da oggi filmerò qui i video. Per le altre novità vi invito a seguirmi sul mio canale Instagram Alice Cerea, lo trovate qui sotto, e da lì vi svelo tantissime novità, tantissimi progetti e qualche piccola news sui prossimi viaggi. Ciancio alle vande, o la vande alle cianci. Comunque non ho più niente da dire oggi, e vi lascio al video della mia estate. Queste sono le immagini subacquee, ovviamente la mia estate non è stata solo sott'acqua. Queste sono le immagini dal mio viaggio in Croazia con sogniatori digitali e snap pic per un super progetto che vi parlerò prestissimi. E ora, via con le immagini sott'acqua. E ora, via con le immagini subacquee, 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 E ora, via con le immagini subacquee,